Sto oggi negli studi di Verona Network con Moreno Fabrica, presidente dei Redskins Verona. Innanzitutto benvenuto Moreno. Inizio questa intervista con una data, 5 luglio 2019. Continua lei. Una data storica effettivamente, una data storica nel senso che dopo tanti anni di assenza di un riconoscimento importante per la squadra dei Redskins, abbiamo vinto un campionato, il campionato del Chief 9 e questa è stata una grossa soddisfazione perché erano tre anni che stavamo avvicinando l'obiettivo e questa volta l'abbiamo centrato. Tra l'altro è stato un obiettivo centrato in maniera assolutamente importante anche per non aver mai perso una partita durante tutto il percorso. Quindi il campionato è stato una perfect season completa. Meglio di così non poteva andare. Un'escalation totale, una sfida quella finale contro Napoli che vi ha visto partire con lo sfavore dei pronostici ma che alla fine vi ha visto alzare la Coppa allo Stadio Breda. Siamo partiti con un pronostico, cioè prometto che anche loro arrivavano nella Conference Out con 10 vittorie come noi, cioè con 9 vittorie, scusa questa era la decima. Però noi ci presentavamo con una serie di infortuni che avevano nelle partite prima bloccato alcuni giocatori che erano importanti. Penso a Frederick Steinhauser in difesa, Di Franco per dire nella linea d'attacco, cioè persone che hanno un peso importante nella strategia di squadra. Abbiamo dovuto rivoluzionare all'ultimo momento alcuni giochi, però vedo che alla fine è ancora più bello quando si raggiunge soffrendo un risultato. Sì, sì, direi che va bene. Penso a Redskins Ferona, penso a una pietra migliare del football americano in terra veronese. Siete nati nel 1981. Le chiedo come si è evoluto il football americano in questi decenni e in cosa è cambiato e che direzione stiamo prendendo come sport? I Redskins sono una realtà diciamo storica dal punto di vista proprio del football americano nazionale, non solo a Verona. Nel 1981 non erano molte le squadre comunque. Poi abbiamo il primato, anche noi insieme a poche altre, di aver avuto una carriera ininterrotta di presenze in campionati nazionali. Cioè non abbiamo mai staccato la spina per poi riprendere, nonostante cambi chiaramente che sono necessari dentro le società sportive perché ci sono dei ricambi, dei trapassi, però siamo sempre stati presenti. Per Verona direi che è una storia un po' alterna perché all'inizio, quando ancora teniamo presente il football si è sviluppato, quando qua avevamo ancora gli americani, si è sviluppato con un sacco di gente che seguiva. Era pittoresco, era molto, come dire, un gioco diverso e le domeniche c'erano 6-700 persone, poi cresciute anche a qualche migliaio nelle partite importanti. Poi c'è stato un momento di stanca, oggi stiamo cercando di recuperare, soprattutto perché il football americano è uno sport che non si vede. Cioè se una cosa la vedo, so che c'è, potrei anche voler giocare, potrei anche voler mandare mio figlio, potrei anche voler vedere le partite, eccetera. In questi anni abbiamo visto come molte persone, dopo che hanno conosciuto il nostro sport, che ci hanno visti, che sono venuti a partire così, hanno scoperto un altro mondo per spiegarci. Bisognerebbe farle vedere un po' di più, in tv non passa, quindi è chiaro che anche i ragazzini quando decidono cosa vogliono giocare da grandi, cosa faranno da grandi, tutti vorrebbero fare un maradona o il rugby, giusta media. Direi che il gioco forza è in queste situazioni di pensare a qualcos'altro. Però ci stiamo muovendo un po', si sta muovendo il panorama un po' in avanti in questi anni, anche grazie alla vittoria, perché ci ha dato visibilità e quindi non ha dato visibilità solo a noi come squadra, ha dato visibilità al movimento del football americano, direi. Quindi sono contento per quello, ecco. Mi piace particolarmente il vostro mantra, we have a soul, chiedo di cosa hai fatto questo spirito? Eh, questo è uno spirito, sì. We have a soul, mai slogan, mai motto fu più indovinato di questo per quanto ci riguarda, perché abbiamo un'anima che anche nei momenti difficili ci ha sempre fatto risorgere, tornare su. Noi abbiamo fatto delle stagioni in cui direi che l'umore era quello di aver perso prima ancora di entrare in campo. Ci stava andando male tutto, avevamo una situazione particolare, società, tante cose voglio dire, ma siamo ritornati su, siamo come l'araba fenice, non continuiamo a rigenerarsi dalle nostre ceneri, ma siamo tornati su alla grade. E l'anima è quella che sorregge la nostra squadra, perché ogni squadra sportiva, che non sia una squadra di professionisti che sono pagati per fare quel lavoro lì, si sorregge proprio sull'anima che ognuno mette in campo per star vicino al compagno e per star vicino alla squadra, il senso di appartenenza, sapere che conti tu come conta quello che hai vicino, quello dietro, perché ognuno di noi ha un ruolo ben preciso e tutti insieme facciamo quest'anima, questo è importante. Ho sempre ringraziato i ragazzi per questo, perché siamo cresciuti proprio in questo. Il problema tecnico c'è, devi crescere tecnicamente, devi crescere agonisticamente, atleticamente e sicuramente, però nel corso del tempo abbiamo messo in atto parecchi elementi di migliorie da un punto di vista dell'approccio al gioco, che non sia solo gioco, quello che sono le convenzioni con palestre, con fisioterapisti, con dietisti dello sport, con tutti accorgimenti perché vorremmo che i nostri giocatori fossero in un ambiente in cui quest'anima si rivela in tutto, non solo nel momento in cui c'è da andare in campo e dare tutto quello che si può. A volte conta di più una serata passata magari fuori dal campo in compagnia a farmi sboccia per fare gruppo, per fare unità che non un allenamento fatto male. Sono convinto che alcune cose si basano proprio sul fatto di trovarci bene insieme. Ecco, questo sicuramente. Lì c'è la nostra anima. We have the soul. A parte appunto l'aspetto visivo, quali sono secondo lei le migliorie che potremmo porre in essere a livello di relazione esterna, insomma, per percepire questo football americano più vicino alle nuove generazioni? Perché nonostante siano passati gli anni c'è sempre la percezione del football come uno sport emotivamente distaccato dalle nuove generazioni e dalla società italiana. Dio, c'è un discorso che noi abbiamo ultimamente provato, una volta ci riuscivamo, oggi molto meno, di contatto per esempio con le scuole. Perché il football non è solo quello che si vede di contatto, non è solo il football americano vero e proprio. C'è il flag football che è un football che si basa sul gioco, sugli schemi, sui lanci, le ricezioni, ma senza contatto. Addirittura giocano ragazzetti sia maschi che femmine. Ed è propedeutico proprio non solo a migliorare le capacità psicomotorie dei ragazzini, ma poi chi vuole, chi si innamora di questo sport può proseguire con quello che è il tackle, cioè con il vero proprio football americano. Quindi con le scuole sarebbe importante perché bisogna anche sfatare questa idea che hanno, specialmente le famiglie, che sia uno sport dove uno entra e picchia. O le prende, a seconda di come va. Forse una volta era molto più così, era molto più va dentro e picchia qualcuno, nel senso che intanto andiamo avanti. I tempi sono molto cambiati. Oggi picchiare è una cosa che non rientra più nella nostra filosofia, se non per bloccare, per farsi largo, per andare. Un giocatore che arriva, cerchiamo sempre che prima di entrare in campo sia pronto non solo fisicamente, ma anche mentalmente da un punto di vista di entrare per non farsi male e per non far male. Perché finché non ha raggiunto questo equilibrio, preferiamo non farlo giocare. Vorrei che tutti quando entrano in campo per noi tornassero a casa con le proprie gambe a posto per spiegarci. È uno sport, sì, violento da un punto di vista che è di scontro. Quando mi dicono è uno sport di contatto, non è vero? Il ballo è di contatto perché prendo qualcuno e mi metto a contatto. Questo è proprio uno sport di collisione. Noi ci scontriamo. Ed è accompagnato da tutta la spettacolarità degli sport che fanno gli americani, che devono sempre fare degli sport che vanno in esagerazione. Noi non giochiamo come gli americani, abbiamo delle regole che permettono al nostro sport di essere un po' più lieve come capacità di uscirne male per spiegarci. Però ecco, se con i ragazzini riusciamo a portarli a fare dei camp, a portare a fare delle prove qua e là, vediamo che l'interesse cresce. E poi la visibilità, la visibilità soprattutto attraverso i media come il vostro, che anzi ringrazio proprio per l'opportunità che ci dà di farci conoscere, di farci sentire. Indubbiamente arrivano verso la gente e fanno sapere che siamo una realtà che c'è a Verona. Alcuni arrivano dopo un po' che mi dicono che non sapevo neanche che a Verona ci fosse. E siamo qui dall'81 però, capisci? Quindi è un po', voglio dire, questa è la difficoltà anche, far sapere che ci siamo e far provare soprattutto perché noi siamo lì, abbiamo il nostro campo, uno viene, prova e vede se gli va bene. C'è una selezione anche naturale anche lì. C'è chi proprio già dalla prima prova dice questo è il mio sport, c'è chi dopo 4-5 volte dice decisamente non è il mio sport. Ma è naturale che succede così per tutti. Un'ultima domanda, all'orizzonte adesso si staglia questa nuova sfida della seconda divisione, un palcoscenico ambizioso e molto importante. Come vi state preparando per questa nuova avventura? Chiaramente ci stiamo preparando in maniera abbastanza massiccia e intensiva perché quello che sembra una stupidata, cioè passare da un gioco a 9 a un gioco a 11, in realtà vuol dire rivoluzionare completamente il sistema di gioco. Alcuni dei nostri hanno già avuto modo di giocare a 11, alcuni ci arrivano per la prima volta e quindi sono completamente all'oscuro. Però sempre per la filosofia di cercare di avere le persone che sono pronte, che sono pronte in tutti i sensi. Sabato e domenica questa abbiamo chiuso un camp per dire che è stato un camp importante perché intanto era un camp non a livello nazionale ma solo per la nostra squadra. E avevamo un coach della nazionale tedesca, uno della nazionale olandese, un coach americano che viene da aver giocato ai college e poi aver giocato in prima divisione con i Giants, scusa dire, fatto il coach con i Giants Bolzano. Quindi parecchi personaggi importanti per far crescere la nostra squadra e prepararci a questa sfida che effettivamente è una sfida, ma è una sfida divertente. Quando giochi a uno sport, quando pratichi uno sport e nel tuo campionato le hai vinte tutte, cosa fai? Cerchi di andare a perdere magari con i più forti ma misurarti con qualcosa di più difficile, così cresci, altrimenti ci continuiamo a raccontare che siamo bravi e basta. Questa è la nostra filosofia. Vogliamo andare avanti cercando di capire e di crescere, magari perdendone, magari vincendone. Il problema per noi che lo facciamo molto per divertimento francamente è relativo. Il campionato è chiaro che partiamo con l'idea di batterci e di uscire sempre, comunque questa è la mia filosofia. Quando si esce dal campo si deve uscire a testa alta, perché quello che potevamo fare abbiamo fatto. Se abbiamo incontrato i più forti abbiamo perso. Questo è lo sport però. In bocca al lupo per questa nuova sfida. Grazie mille, questa sì ci serve. Grazie mille.